Il partito popolare scarica Berlusconi per le sue posizioni anti-europeiste. Il nostro candidato in Italia è Mario Monti, precisa il capogruppo del PPS Strasburgo, Joseph Daul, che poi aggiusta il tiro dopo una telefonata con il professore. Il cavaliere propone Mario Draghi come prossimo inquilino del Quirinale, ma il governatore della Banca Centrale Europea, Logela, sono impegnato qui per altri otto anni. Chi non aiuta noi fa un regalo a Berlusconi, appello di Versani per il voto utile. Il segretario del PD teme che i voti dei centristi in Lombardia e di Rivoluzione Civile in Campania e Sicilia possano far perdere la maggioranza al Senato. Replica ingroia, parliamone, anche perché senza di noi il PD è inutile. Il Viminale ha ammesso alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 169 liste, respingendo 34 simboli, tra i quali quelli civetta, che imitavano quello di Monti e del Movimento 5 Stelle e di Rivoluzione Civile di Ingroia. Soddisfatto Beppe Grillo, il ministero ha respinto anche il simbolo della Lega Nord perché la scritta Tremonti, presidente, può essere confusa con quella di Monti. La Fiat ha chiesto due anni di cassa integrazione a rotazione per lo stabilimento di Melfi. Servirà a ristrutturare in vista dell'investimento precisa il lingotto. Non chiuderemo impianti in Italia, assicura l'amministratore delegato Marchionne da Detroit, ma per il leader della FIOM Landini è l'annuncio che l'occupazione verrà ridotta. Grafici e disegnatori a lavoro per ridare smalto ai simboli taroccati e ricusati dal Viminale. Sono 34 su 219 presentati, 169 gli ammessi, 16 quelli bocciati senza appello. Beppe Grillo se la ride, piange la Lega Nord che dovrà rivedere il suo logo. 34 simboli civetta per elettori polli, doppioni da settimana enigmistica, dove trovare la differenza diventa un gioco impossibile. Tra i ricusati eccellenti spicca naturalmente il simbolo clone del Movimento 5 Stelle, quello depositato dall'ex grillino Danilo Foti e che aveva fatto infuriare il padre storico del Movimento. È il suo, il caso più eclatante di questo avvio di campagna elettorale, il suo insieme al simbolo fotocopia della lista Monti, Mario, quello vero, Samuele, il finto, e a quello di Antonio Ingroia con la rivoluzione civile, in tutto uguale a quella evocata dal magistrato. Fino alla lista della Lega Nord, quella con Alberto Dagiussano, il nome di Maroni, e quello di Tremonti ma con la M più grande delle altre lettere. Una svista o una furbata. Calderoli ha già spiegato che il problema è proprio in quella lettera M che poteva indurre in errore, rimandando al nome dell'attuale Premier. Presenteremo subito il simbolo corretto, ha assicurato il leghista. Tra i ricusati che dovranno correre ai ripari è anche il logo dei liberi da Equitalia, lista coalizzata con il PDL sia alla Camera che al Senato. Non mancano le curiosità, promossa la lista del movimento Bunga Bunga, quella per il recupero del maltolto, e persino quella definitiva Io non voto. Infine, anche se tutti e 34 i simboli clone fossero riammessi, non si arriverà mai neppure vicini al record dei contrassegni raggiunto nelle elezioni del 2004. Quella volta i simboli furono 304. Ed è polemica sul presunto appoggio del Partito Popolare Europeo a Mario Monti. Il capogruppo del PPE dell'Unione, il francese Joseph Daoul, ha dichiarato che il candidato Monti è Monti, ma poi ha dovuto parzialmente smentire. Mentre Berlusconi, che ha lanciato la candidatura di Draghi al Quirinale, ha dovuto incassare il no del governatore della Banca Centrale Europea. Sentiamo. Europa-Berlusconi 2 a 0. Se in Italia il Cavaliere procede sorridente e con passo sicuro la sua campagna elettorale, ci pensa l'Europa a ridimensionare l'ottimismo dell'ex premier, con ben due niente. Il primo è di Mario Draghi. Ieri Berlusconi aveva lasciato intendere il suo nome come possibile successore di Napolitano alla Presidenza della Repubblica, certamente gradito anche alla sinistra. Ma il governatore della Banca Centrale Europea, nonostante sia arrivato alla BCE anche con l'aiuto di Berlusconi, ha subito freddato la proposta dell'ex premier facendo sapere che fino a fine mandato, cioè fino al 2019, resterà a Francoforte dove si trova benissimo e che non ha nessuna intenzione di bruciarsi nella campagna elettorale italiana né rischiare di essere indebolito a livello europeo. Dopo il primo assist arriva il secondo da Joseph Dole, il capogruppo del PPE che ieri da Strasburgo ha di fatto scomunicato per la seconda volta il Cavaliere con una dichiarazione che ha fatto saltare i nervi ai berlusconiani. Il candidato del PPE, il signor Monti, ha detto Dole, ma come sempre in Italia la situazione è molto complicata perché abbiamo anche l'Udc e il partito di Berlusconi che sono tutti membri del PPE. Un'uscita che non sarebbe piaciuta neppure al professore che in una telefonata con Dole avrebbe manifestato il suo rammarico perché non si sentirebbe il candidato di una sola parte tanto che il capogruppo del PPE avrebbe aggiustato il tiro smettendo parzialmente le sue dichiarazioni pur confermando le accuse alla strategia anti-europeista di Silvio Berlusconi. Dole ha anche detto che il PPE monitorerà comunque la campagna elettorale italiana e che continuerà la lotta contro il populismo. Nel centro-sinistra invece continua la polemica tra il PD e rivoluzione civile. Ieri Bersani ha detto chi non vota PD fa un regalo a Berlusconi. La risposta di Ingroia, mi chiami e ne parliamo, ma senza di noi il PD è inutile. Bersani a Ballarò lancia la sua ricetta fiscale. L'Imu può essere riequilibrata aumentando le detrazioni e caricando di più sui possessori di grandi patrimoni immobiliari. Io dico che con un valore catastale di circa 1 milione e 300 mila, 1 milione e 500 mila euro, cioè circa 3 milioni di euro di valore di mercato, siamo in presenza di un grande patrimonio. Per quest'anno comunque, aggiunge il segretario del PD, non siamo in grado di ridurre l'imposta sugli immobili, niente favole. La pressione fiscale, continua il candidato premier del centro-sinistra, è molto alta perché l'evasione fiscale è molto alta e aumentare le tasse significa farle pagare ai soliti. Se teniamo la spesa sotto controllo, è possibile dire che ogni euro recuperato da una maggiore fedeltà fiscale può andare alla riduzione delle tasse. Bersani non crede alla rimonta di Berlusconi, non punta a vincere, ma solo ad alzoppare la nostra vittoria e promette di cancellare le leggi ad personam. Ma il segretario del PD è attento anche a lanciare la campagna per il voto utile. Chi non sostiene noi da una mano a Berlusconi spiega ognuno si assuma le sue responsabilità, solo noi possiamo batterlo. Messaggio rivolto a Ingroia, il leader di rivoluzione civile. Parliamone, risponde Ingroia, ma si potrebbe anche rovesciare il ragionamento. Chi non si accorda con noi al Senato aiuta Berlusconi. Noi siamo alternativi a Monti, potremo essere disponibili solo in un governo di centro-sinistra. È la controproposta di un accordo politico nei fatti impossibile perché implica che Bersani rinneghi la prospettiva di un'alleanza post-elettorale con i moderati. Ma l'appello al voto utile del PD è anche per gli elettori centristi. Gli attacchi di Monti a Berlusconi sono letti come il tentativo di conquistare consensi dal centro-sinistra. Casini avverte, quello al voto utile è un appello consueto da parte di tutti coloro che temono il centro e la lista Monti. E dopo il ritiro del faso simbolo del Movimento 5 Stelle, dunque, come aveva promesso, Beppe Grillo è tornato in piazza con il suo Tsunami Tour. Vediamo. Il piano al camper è fatto, i toni e la verva sono gli stessi di sempre. È partito ieri pomeriggio da Pistoia lo Tsunami Tour di Beppe Grillo, una sorta di giro d'Italia elettorale cominciato con un giorno di ritardo dopo la questione poi risolta dei simboli civetta. Un lungo tour che si concluderà pochi giorni dalle elezioni il 22 febbraio a Roma. Niente apparizioni televisive, uno dei motivi dell'esclusione del dissidente Favia, ma tante, tantissime piazze a ritmo di due città al giorno, scendendo e poi risalendo tutto lo stivale, isole comprese. Nemmeno il tempo di saltare fuori dal camper, che parte subito lo show di Grillo contro i tanti partiti che si presenteranno alle elezioni. Sono 169, pensavo qualche cosina di più, perché sono pochi. Cioè, quello oggi non pago più le tasse, domani non lo so, contro Equitalia. Questo è un paese così, che non si riesce più a capire, per ridurci all'ultimo momento di dire c'è il simbolo, non c'è il simbolo, che cos'è. Sono tentato dal votare Moggi o Casini, scherzi a Grillo, che continua la sua battaglia contro il finanziamento pubblico ai partiti nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle Siciliano pubblica sul proprio sito i fondi restituiti alla Regione Sicilia dello stipendio di quasi 12.000 euro assegnato ad ogni deputato, i grillini ne daranno indietro più di 9.000. Basta con i faccioni, io sono pieno di faccioni in tutte le città. Io vorrei sapere chi paga, chi paga questi manifesti di due metri per tre. Chi li paga? I rimborsi non sono ancora dati, non sono ancora stati dati i rimborsi. Vuol dire che le banche anticipano i partiti per fare questi manifesti anticipano i soldi. Se ci vai tu a chiedere un filo, ci vai tu per una piccola impresa, a chiedere i soldi non ti danno i soldi, ma danno i soldi in anticipo dei rimborsi elettorali ai partiti. Operai, casalinghe, professionisti, dall'impegno della società civile al coinvolgimento della società normale. Sono al suo fianco i candidati del Movimento 5 Stelle nel comizio, vero e proprio un lungo e urlato intervento sul palco nel solco della tradizione del comico genovese che come al solito non risparmia nessuno. Siamo solo idee e quando ci dicono il programma, il programma non ve lo dico e non passa attraverso un giornalista per dire un programma. Sapete cosa dovete fare voi? Essere curiosi, andatevelo a vedere il programma del Movimento 5 Stelle. La Fiat ha chiesto due anni di cassa integrazione straordinaria per 5.500 operai dello stabilimento di Melfi in Basilicata, ma l'amministratore delegato Marchionne fa sapere e gli investimenti sono confermati. Guardate queste immagini a Mario Monti che entra nello stabilimento Fiat di Melfi. Siamo solo al 20 dicembre scorso. Applausi dei dipendenti e parole che se fossero davvero profetiche ci sarebbe da preoccuparsi. Proprio qui a Melfi, aveva sottolineato Monti, nasce il nuovo rapporto fra l'Italia e la Fiat. Oggi il nuovo rapporto ricorre ad uno strumento tra i più vecchi, la cassa integrazione. Si parte a metà febbraio fino a tutto il 2014, salvo inconvenienti però, perché dagli Stati Uniti l'amministratore delegato Marchionne continua a lasciare messaggi preoccupanti. Non vedo margini di recupero per il mercato dell'auto in Europa, dice il manager italo-canadese. Difficilmente il 2013 sarà l'anno della ripresa. Di sicuro le sue parole valgono per la Fiat, visto che Volkswagen, con le sue piccole come l'Apolo, vola come non aveva mai fatto prima. La Fiat ha spiegato che la cassa integrazione a Melfi sarà a rotazione, dunque toccherà tutti, e sarà necessaria per realizzare gli investimenti previsti per lo stabilimento, quantificati in oltre un miliardo di euro. Soldi che, a quanto pare, devono arrivare anche dalle tasche degli operai, i quali proprio da quel 10 dicembre non entrano in fabbrica. Per i 5.500 dipendenti, dunque, sarà assicurata solo una linea di produzione per l'appunto l'auto più venduta, ed una volta riammodernato lo stabilimento si cominceranno a produrre le Jeep, il che preoccupa la FIOM, per la quale non è il caso di lasciare il certo l'appunto che ancora tira, per l'incerto un SUV non proprio in linea con le richieste del mercato europeo. Il leader della FIOM, Landini, torna oggi proprio su quelle parole di Monti. Siamo di fronte a un ridimensionamento occupazionale, con la testa sempre più spostata verso gli Stati Uniti, stigmatizza. Monti a Melfi ha dato la benedizione alla riduzione della presenza della Fiat nel nostro paese. e la CGL gli fa eco chiedendo l'apertura di un tavolo negoziale in base ad un principio semplice. Se si mette in preventivo un miliardo di euro per ristrutturare lo stabilimento, vuol dire che esistono tempi certi ed un piano di investimento. Vorremmo conoscerlo anche noi. Si complica la questione ILVA. La procura infatti chiede l'intervento della consulta sul decreto che permette al polo siderurgico di continuare a produrre con gli impianti sotto sequestro. Il decreto salva ILVA violerebbe la Costituzione ed il Tribunale di Taranto chiede l'intervento della consulta. Il braccio di ferro tra procura da una parte, governo e acciaieria dall'altra, se possibile, si complica ulteriormente. Mentre tra i lavoratori aumenta la tensione, gli stipendi di febbraio sono a rischio e già 700 operai sono in cassa integrazione. Il Tribunale di Taranto ha sospeso il giudizio in merito al dissequestro dei prodotti finiti, sollevando la questione di legittimità costituzionale della legge 231 del 24 dicembre 2012, che permette al polo siderurgico di continuare a produrre con gli impianti sotto sequestro. A ricorrere ai giudici dell'appello era stata l'azienda, dopo il nodo del GIP, alla commercializzazione dei prodotti finiti, circa 1.800.000 tonnellate di acciaio del valore di un miliardo di euro. Il Tribunale ha deciso di inviare gli atti alla Corte Costituzionale e nell'attesa della decisione della consulta la merce resta bloccata nel porto di Taranto. Contrario al Ministro Clini, in attesa che la Suprema Corte si esprima, ha dichiarato la legge va comunque applicata. Non la pensano così i giudici, secondo i quali il decreto legge violerebbe 5 articoli costituzionali, perché permette all'ILVA la commercializzazione dei prodotti, compresi quelli realizzati prima dell'entrata in vigore della legge, nonostante il sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari. Annullare gli effetti di un provvedimento cautelare ex legge, è scritto nell'ordinanza, è un'invasione della sfera di competenza del potere giudiziario e si manifesta come uso abnorme della funzione normativa. In parole povere, il Parlamento si sarebbe arrogato poteri non suoi e propri della magistratura, contravvenendo agli articoli 102, 104 e 112 sulla funzione ed indipendenza dei magistrati e sull'obbligatorietà dell'azione penale. Inoltre, il decreto legge intervenendo sul solo caso dell'ILVA andrebbe contro l'articolo 3, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Anche l'articolo 24, sulla possibilità del privato di agire in giudizio per tutelare i suoi diritti, sarebbe stato ignorato nel decreto legge pro-ILVA, secondo il Tribunale di Taranto. Andiamo all'estero, un'altra terribile strage in Siria. Ieri all'Università di Aleppo due esplosioni hanno causato la morte di 80 persone, di oltre 80 persone. La maggior parte sono studenti ed è scambio di accuse tra il governo e i ribelli. Forse un'autobomba, un missile terra-aria andato fuori in bersaglio o le bombe sganciate da un aereo. Impossibile al momento attribuire la responsabilità dell'attacco che ieri ha provocato una nuova strage di civili. Oltre 80 le vittime, più di 160 feriti, questa volta ad essere versato è il sangue degli studenti dell'Università di Aleppo. Ad essere colpita è un'area compresa tra gli alloggi studenteschi, attualmente occupati da alcune centinaia di profughi, e la sede della Facoltà di Architettura. L'attacco avviene in pieno giorno, mentre sono in corso le sessioni di esame, a quell'ora l'Università è affollata di studenti. L'Ateneo di Aleppo è considerato la più importante istituzione culturale del nord del paese e si trova in un territorio controllato sia dalle forze governative che dagli oppositori del presidente Bashar al-Assad. Ma Aleppo è anche la seconda città del paese dopo la capitale Damasco ed è teatro, ormai da mesi, di violenti combattimenti tra le truppe lealiste e le milizie ribelli che si affrontano quartiere per quartiere. Non si combatte però solo ad Aleppo. scontri e bombardamenti proseguono in molte altre regioni del paese. Nella sola giornata di ieri sarebbero morte almeno 180 persone tra le quali anche 15 bambini. Intanto, mentre prosegue il dramma degli oltre 600.000 profughi fuggiti dalla morte e dall'orrore di una guerra civile, la diplomazia non sembra riuscire a trovare una soluzione alla crisi. La Russia, storico alleato di Damasco, dopo l'attacco di ieri all'Università, ha deciso di chiudere il suo consolato ed evacuato tutto il personale diplomatico. Negli Stati Uniti adesso dove il presidente Obama sta per presentare una proposta per limitare l'uso delle armi. Sentiamo. È la battaglia delle armi la sfida di Barack Obama al mito americano del diritto inviolabile a possedere ciò che si reputa utile per difendersi fosse anche un mitragliatore da guerra come quello utilizzato dal folle omicida che nella scuola elementare di Newtown esattamente un mese fa uccise 27 persone, 20 i bambini sotto i 10 anni. Lotta al traffico di armi, controlli più stretti su chi acquista pistole e poi un bando per i fucili d'assalto sono le proposte della Casa Bianca promesse dal presidente subito dopo la strage del Connecticut e sono attese per oggi. Ma intanto lo Stato di New York ha già varato per primo ieri una legislazione restrittiva rendendo più severo il divieto della vendita di fucili da guerra impedendo che persone con disturbi mentali possano possedere armi e complicando l'acquisto delle stesse munizioni. Il provvedimento federale preparato dal vice di Obama Joe Biden potrebbe entrare invece in vigore senza passare per il congresso ricorrendo al cosiddetto ordine presidenziale. Ma con i sondaggi per la prima volta favorevoli ad un giro di vite sulla materia la National Rifle Association alla principale lobby delle armi americane lancia la sua nuova campagna di informazione basata su un videogioco ritenuto adatto anche ai minori con cui si può sparare scegliendo tra varie armi compreso il modello di fucile utilizzato a New Town. E siamo al calcio con la Coppa Italia vittoria dall'ultimo respiro per l'Inter ieri sera contro il Bologna 3 a 2 ai tempi supplementari e stasera si gioca l'ultimo quarto di finale tra Fiorentina e Roma. Sentiamo. Pazza Inter I nerazzurri acciuffano le semifinali di Coppa Italia soltanto all'ultimo minuto dei tempi supplementari dopo aver sprecato un doppio vantaggio contro il Bologna. A San Siro Stramaccioni fa subito capire che alla qualificazione ci tiene e come e con lui anche Cassano preferito al giovane Livaia nel tandem d'attacco con Rocchi alla prima da titolare con la sua nuova maglia. Fantantonio lo trovi dappertutto qualità e sacrificio Un simile impegno meriterebbe la soddisfazione del gol. Il barese prova a sorprendere Agliardi ma il suo destro sul palo lungo trova il provvidenziale volo del portiere Rosso Blu che però poco dopo la mezz'ora non riesce a fermare questo violento destro di Guarin. L'assist neanche a dirlo è dello scatenato Cassano. La reazione del Bologna sbatte contro i guantoni di Andanovic che sul finire di tempo ferma Gilardino prima e Diamanti poi. I tentativi degli uomini di Pioli si fanno più frequenti nella ripresa quando il tecnico degli Emiliani si affida ad una squadra a trazione anteriore con gli inserimenti di Gabbiadini e Conei. Per l'Inter aumentano inevitabilmente gli spazi e Palacio subentrato a Rocchi sfrutta il contropiede per il 2-0 che al 77 sembra chiudere il match. Il Bologna invece fiuta aria di impresa e la punizione di Diamanti è la molla per la rimonta. Ranocchia rischia il pasticcio spaventando Andanovic che a sette minuti dalla fine si arrende al pareggio di Gabbiadini. La rete manda le due squadre ai supplementari. Capitan Zanetti tenta l'incursione personale ma viene stoppato dagli ardi con l'aiuto dei legni. Quindi il gol dello stesso Ranocchia che al 120 scaccia i fantasmi dei rigori. Inter alle semifinali contro la vincente di Fiorentina-Roma ma il Bologna esce a testa alta. è davvero tutto tra poco dopo la pubblicità il meteo con Paolo Sottocorona poi a seguire il dibattito di Omnibus con Andrea Pancani buon proseguimento.